buonasera a tutte buonasera a tutti e scusate il lieve ritardo questa sera andiamo avanti con le nostre dirette dantesche anche se siamo nel 2022 noi andiamo avanti procediamo e dirette che non seguono un canto con un ordine una cantica con un ordine preciso ma appunto faccio quello che mi pare quindi si fa un po spizzichi bocconi un po da saggini e questa sera abbiamo fatto il canto decimo del paradiso il canto decimo del dell'inferno e questa sera invece proprio così sempre senza senza una logica apparente ma per il puro gusto di parlare di canti di cui ho voglia di parlare o che ho voglia di studiare parleremo del canto ottavo del purgatorio faccio un po di condivisione intanto che vedo che si sta affollando parola corsa sta arrivando bella gente però il canto ottavo del purgatorio tra l'altro è un canto secondo me apparentemente famoso perché famoso l'incipit l'incipit è un incipit molto amato anche per le varie per chi ha delle vene poetiche o per eventuali letture ma secondo me non è un canto su cui dopo si indugia cioè si sta su questo bellissimo incipit che in effetti è molto bello ma poi dopo lo si lascia un po lo si lascia un po perdere e invece un canto particolare complesso la critica si pone la critica si pone anche in maniera non so come dire ma un po ambigua perché diciamo che tendenzialmente la critica lamenta una come se ci fosse un po troppa roba dentro questo canto come se fosse un po un fritto misto e invece ci accorgeremo che è che è un canto che ha che ha delle sorprese e delle secondo me anche delle dei richiami interni interessanti ed è un canto che offre parecchi spunti per parlare di dante direi che abbiamo fatto fin troppi preamboli e partiamo con il canto canto ottavo del purgatorio che va a studere una tripletta di di canti iniziati col canto sesto canti che vedono tra l'altro la presenza di sordello e che vedono la presenza di questi principi principi negligenti siamo nella ancora nella spiaggia dell'anti siamo nella spiaggia del purgatorio il cosiddetto anti purgatorio e siamo in questa zona dove risiedono persone che devono ancora accedere al cammino purgatoriale vero e proprio quindi abbiamo scomunicati i morti di morte violenta ai pigri quelli appena arrivati insomma in questa zona diciamo che tendenzialmente si indugia sia un po lì che si aspetta di poter iniziare il cammino vero e proprio però anche se siamo in canti che fanno da vestibolo a quello che sarà poi il purgatorio vero e proprio già noi vedremo vediamo e vedremo delle cose molto interessanti per quanto riguarda la psicologia chiamiamola così delle anime purgatoriali anche questo è un bel canto perché proprio vediamo come le anime del purgatorio siano estremamente diverse voi direte invece manca ci mancherebbe con rispetto alle anime di dannati se voi avete seguito la mia diretta della settimana scorsa con la contrapposizione tra farinata e cavalcante cavalcanti però che è una contrapposizione dove non c'è dialogo tra loro non c'è relazione se vi ricordate farinata va per la sua strada cavalcante ma per la sua strada questi condividono addirittura la stessa tomba eppure non non succede niente non si muove niente ecco vedrete qua abbiamo vedremo tre insomma anime e ci accorgeremo che che la relazione tutta diversa poi come come vi dicevo è un canto molto ricco e per certi aspetti misterioso perché succedono delle cose che diciamo di per sé non sono particolarmente almeno non sono così immediatamente comprensibili durante qua gioca gioca a mescolare le carte è un po a confonderci anche stasera utilizzerò questo tomone che è il commento per l'aldanichelli della maria chiavacci leonardi ma in realtà esistono anche i commenti più più agevoli rispetto rispetto a questo e ma soprattutto lo utilizzerò per la paraprasi perché insomma così perché ci può ci può servire andiamo avanti partiamo con la lettura era già l'ora che volge il disio ai naviganti e intenerisce il core lo di candetto e dolci amici a dio e che lo nuovo peregrin d'amore punge se ode squilla di lontano che paglia il giorno pianger che si more quando io incominciai a render vano l'udire e ammirare una dell'alme surta che l'ascoltar chiedea con mano allora la partenza e questa partenza proprio all'insegna della della nostalgia era già l'ora che volge il visio ai naviganti e intenerisce il core allora sta arrivando sera all'altezza del canto ottavo siamo ancora al primo giorno in cui dante nel nel nuovo regno nel regno del purgatorio dante rimarrà nel purgatorio passerà nel purgatorio quattro tre notti quindi quattro giorni di fatto perché appunto nel purgatorio uno dei grandi dei grandi ritorni che c'è rispetto all'inferno è ritorno del tempo è ritorno della natura ma soprattutto al ritorno del tempo a un ciclo a un tempo un tempo che è necessario perché il tempo è fondamentale per queste anime del purgatorio perché proprio il fatto che le anime del purgatorio debbano scontare sostare determinati giorni per compiere il loro cammino di purificazione fa sì che proprio è il tempo necessario non può essere una dimensione eterna perché non si potrebbe capire quando hanno terminato il loro il loro percorso ciao martina ciao e anche ciao francesco ciao ciao maurizio e quindi c'è un tempo cronologico un tempo cronologico che è importante qua stiamo arrivando alla alla prima alla prima alla prima sera poi insomma ricorderete da precedenti dirette che ogni sera ogni volta ogni volta che arriva alla notte poi dante dorme e mentre dorme sogna però andiamo avanti allora questa questa gruppetto di terzine che hanno questa musicalità estremamente semplice di per sé nel senso che non abbiamo termini ricercati di zio dio lontano vano amore core more c'è la rima amore core insomma diciamo non sono rime particolarmente ricercate eppure a questa insistita musicalità cioè un canto proprio che questa partenza davvero è una partenza lirica per eccellenza allora la di per sé i commentatori fanno un po fatica però non c'è neanche facciano fatica propongono diciamo così soluzioni diverse a seconda di come organizzano la sintassi perché di per sé dante la costruisce un po strana cioè non si capisce neanche quale sia a volte il soggetto di certe cose comunque la nostra anna maria chiavacci leonardi dice così era già quell'ora del giorno che rivolge indietro il desiderio di coloro che si sono messi in viaggio per mare e intenerisce il loro cuore in quel giorno che hanno detto addio ai loro cari quindi nel giorno della partenza e che fa soffrire punge d'amore il pellegrino che si è messo in cammino da poco alludire da lontano il suono della campana che sembri piangere il giorno morente quindi il suono della campana è una campana che in qualche maniera aumenta acutita questa malinconia quando io incominciai a lasciare inoperoso l'udito però questa qua dopo guardiamola meglio perché dante dice secondo me qualcosa di diverso e a guardare una delle anime alzatasi in piedi che richiedeva col gesto di essere ascoltata più o meno questa è la faccenda allora c'è un'ora che volge il visio ai naviganti il verbo volgere in dante è un verbo particolare noi l'abbiamo visto nei suoi effetti maligni la lonza che volge e oppure la sirena la femmina balba che che volge ulisse dal suo cammin vago oppure lo vediamo anche nei suoi effetti in qualche maniera positivi a parte questo volgere il visio ma già volge al mio visio il belle insomma volgere è un verbo particolare è un verbo che indica uno spostamento un'attrazione un movimento anche con sfumature sensuali con sfumature legate al desiderio il verbo volgere non è un verbo da poco all'interno della commedia quindi e c'è questa metafora del navigante cioè il pellegrino c'è il pellegrino e noi sappiamo che la condizione di dante come pellegrino è la condizione dell'esule e la condizione del navigante e il navigante per noi è sempre ulisse quindi in qualche maniera c'è questo richiamo che ci lega ad ulisse e quindi c'è dante che immagina vedendo questo questa sera che scende lentamente e sente questo moto di nostalgia questa lontananza da casa acutizzata da questa campana che in qualche maniera piangendo ricorda il giorno che si dissolve in questa che si more ecco anche lui è partecipi di questo e dice quando io incominciai a rendervano l'udire allora questa espressione che la che va a cenare vi dice o lei o chi per esso quando io comincia a lasciare inoperoso l'udito di per sé un po strano perché perché fra poco dante sentirà cantare allora che cosa vuol dire render vano l'udite l'udire render vano l'udito che cosa sta riferendo perché sta dicendo che smette di ascoltare cosa smette di ascoltare allora alcuni dicono ma potrebbe probabilmente smette di ascoltare quello che veniva cantato nel canto settimo del purgatorio sempre in questa balletta e qua avremo un salve regina salve regina in sul verde in su fiori quindi seder cantando anime vivi tratto questo salve regina appare in una cornice che è una cornice da vetrata medievale oro e argento fine cocco e biacca indaco legno lucido e sereno fresco smaraldo in l'ora che si fiacca dall'erba e dali fior dentro a quel seno posti ciascun saria di color vinto come dal suo maggiore e vinto il meno non avea pur natura il dipinto ma di soadità di mille odori di facea uno incognito e indistinto salve regina in sul verde in su fiori quindi seder cantando anime vivi che per la valle non parem di fuori quindi questa è la bellissima descrizione di questa natura e come dice il sermonti è una natura da vetrata medievale con questi colori che in realtà se ci pensate sono i colori proprio della miniatura sono i colori che vengono usati dalla manuense per fare le singole miniature quindi noi abbiamo un dipinto che sfida la natura perché questo dipinto è dipinto dall'artefice divino cioè da dio sfida la natura in bellezza però al tempo stesso in questa valletta di principi negligenti forse questa natura è una natura tentatrice e teniamolo presente perché adesso poi ritornerà questo tema è una natura che in qualche maniera rischia di far sì che questi principi tendenzialmente diciamo così pigri o che non hanno ha compiuto dovere tutto quello che dovevano in questo in questa situazione di relax sono spronati a compiere un vero cammino di purificazione quindi c'è già una valletta che ha delle lusinghe ecco chiamarle così che un po rallentano ma tutte le anime dell'antipurgatorio sono delle anime impigliate sono delle anime che fanno un po fatica a partire ad avviare a mettere a mettersi in movimento allora che cosa vuol dire e questo render vanno l'udito rendo vanno l'udito rispetto il salve regina quindi non sento più quella cosa lì e ne sento un'altra sarà il te lucis ante o all'interno della reverie mentale cioè dante che immagina questo suono della campana il render vanno l'udito e rispetto alla campana quindi dante era così entrato in questo mondo virtuale dei naviganti dell'addio e del pellegrino d'amore eccetera 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 che si stacca dal dalla fantasticheria e ritorno alla realtà non lo so a me piace più questa seconda ipotesi che è anche l'ipotesi di roberto mercuri e la giunse elevò ambo le palme ficcando gli occhi verso l'oriente tra l'altro spesso è l'oriente a dominare il canto del purgatorio per qua siamo in tutto quello che a fare con la nascita la rinascita oro sorgere come dicesse a dio d'altro non calmo te lucis ante si devotamente le uscio di bocca e con si dolci note che fece me a me uscir di mente quindi questa anima canta il te lucis ante te lucis ante che è comunque un canto liturgico che in qualche maniera ha a che fare con la protezione dal nemico il difendersi dal nemico allora a parte la bellezza del che fece me a me uscir di mente con questo me 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 quindi il me a me uscir di mente in qualche maniera è una sorta di estasi già una piccola piccola piccolo stato di estasi mistica piccolo piccolo non non ancora di quelli stravolgenti del del paradiso però ecco vi dicevo nel purgatorio come subentra interviene il tempo cronologico il tempo dato dal ciclo del giorno e della notte interviene il tempo liturgico e questo forse più importante con me ci ha insegnato il il piccolo principe nel dialogo con la volta i riti sono importanti allora la salvezza è data da una qualità del tempo allora siccome è sempre bello vedere che cosa dante 700 anni fa ci diceva che forse noi non ascoltiamo più o che facciamo fatica ad ascoltare sarebbe molto interessante capire che fine ha fatto il tempo sacro nelle nostre dita in una in un'epoca da centro commerciale in cui ogni giorno è feriale sempre cioè non esiste più il festivo ecco capiamo bene che se anche io a natale posso andare tranquillamente a prendermi il prosciutto le verdure ecco capite che una società che ha perso il rapporto con un tempo sacro forse è una società amputata di qualcosa allora il canti i canti del purgatorio sono canti fortemente scanditi da un tempo liturgico sono tantissime le liturgie l'amico giovanni alberto ceri li ha tutte messe in elenco e in qualche maniera analizzate praticamente il viaggio del purgatorio è un viaggio anche attraverso il rituale rituale che ha senso sì per scandire il tempo in cui questi devono contare i giorni che devono star lì ma per candire anche una qualità del tempo allora questa è la domanda che così rilancio senza necessariamente aver bisogno di risposte che fine ha fatto il tempo sacro nelle nostre vite perché dante sta dicendo che per un percorso di purificazione per un percorso di rinascita noi non possiamo far a meno di un tempo sacro noi non possiamo far a meno di una ritualità esiste ancora una ritualità in una società dei consumi tenete bella lì e l'altre poi dolcemente devote le altre anime seguitare lei per tutto l'inno intero avendo gli occhi alle superne rotte e fin qua avete visto come fino adesso insomma io ho cercato anche un po di rendono ma tutto l'andamento ha un tono poetico lirico altissima poesia colpo di scena bam di colpo dante ci rovina la fede cioè c'eravamo abituati a questa a questa sonata per pianoforte o questo canto bellissimo dolcissimo e dante ci rovina la festa immediatamente proprio il dante personaggio esce di mente e il dante autore ci riporta alle questioni apparentemente importanti aguzza qui il lettore ben gli occhi al vero che il velo e ora ben tanto sottile certo che il trapassar dentro è leggero cioè noi ci stiamo assolutamente perdendo in questa in questo canto bellissimo questo coro insomma sembra immaginatevi qualsiasi qualsiasi coro bello che avete sentito nella vostra vita e poi mi sembrano tutti i maschi quindi un bel coro degli alpini e dante ci riporta alla nostra responsabilità di lettori aguzza qui il lettore ben gli occhi al vero attento lettore guarda bene quello che stai facendo perché il velo è ora così sottile al punto tale che il trapassar dentro è leggero e qua c'è il problema perché sentiamo come come fa la parola frase la nostra che questa volta è facile aguzza bene gli occhi al lettore verso la verità poiché il velo è ora così sottile che questa volta è facile attraversarlo ma attenzione perché qua sembrerebbe dire stai attento che sembra tutto così lineare e semplice che quasi non ti accorgi che c'è un messaggio nascosto allora questa terzina a noi amanti delle letture anche un po eretiche della commedia ci riporta immediatamente a quella terzina che ha fatto dannare chiunque pascoli compreso di inferno 9 o voi che avete gli intelletti sani mirate la dottrina che sasconde sotto il velame dei diversi strani o dietro il velame dei diversi fai tornando a memoria comunque c'è la parola velame allora o voi che avete l'intelletti sani quindi c'è di nuovo dante che si rivolge al lettore a guzza ben gli occhi al vero appello a chi legge che c'è un velo e le due espressioni sono in qualche maniera complementari opposte perché in una si dice o voi che avete gli intelletti sani mirate la dottrina che sasconde sotto il velame dei diversi strani è stata attenti a quello che c'è sotto e qua dice stai attento in qualche maniera che non ti sembri troppo leggero questo velo è consapevolmente una terzina che richiama inferno 9 qua siamo purgatori 8 quindi diciamo che anche a livello di simmetrie siamo abbastanza vicini dante non ha messo proprio se l'avesse messo a purgatorio 9 ecco sarebbe stata proprio così però dante è anche il maestro delle non simmetrie o delle simmetrie apparenti per cui non dobbiamo attenderci in dante la perfezione delle cattedrali ma dobbiamo attenderci la perfezione delle galassie degli oceani insomma la sua le sue simmetrie sono simmetrie diverse per certi versi che cosa ci sta mettendo in guardia ci sta mettendo in guardia da che cosa proviamo andare avanti io vivi quello essercito gentile tacito poscia riguardare in sue quasi aspettando palido e umile e vi riuscir dell'alto e scender giù e due angeli con due spade affuocate tronche e private delle punte sue io vivi tutti rivolti appunto in attesa di qualcosa e vivi scendere dall'alto due angeli con due spade di fuoco le spade sono tronche private delle punte cosa sta succedendo andiamo avanti perché poi dopo proviamo anche a collegarci invece col canto inferno 9 per vedere quali sono le simmetrie verdi come fogliette pur monate erano in veste che da verdi penne percosse traeam dietro e ventilate quindi questi angeli appaiono nella loro viriditas nella loro verdetta tra l'altro la viriditas è insomma una un qualcosa che ha a che fare con il detar con bingen comunque andiamo avanti quindi questi sono totalmente verdi totalmente verdi in questa balletta che ha tutti i colori da miniatura l'un poco sovra noi a star si venne e l'altro scese in l'opposita sponda sì che la gente in mezzo si contende quindi ci sono si dispongono anche questi due angeli in attesa di qualcosa allora è già noi avevamo visto un primo angelo nel purgatorio nel canto secondo tra l'altro vi invito a rileggere a risentirvi una diretta che ho fatto ancora nel 2019 sugli angeli del purgatorio comunque non c'è problema vivi le cose importanti ve le dico adesso noi abbiamo visto l'angelo nucchiero in purgatorio 2 e qua vediamo altri due angeli che hanno una funzione particolare però ricordiamoci hanno delle spalle infuocate e le spalle infuocate ci ricordano il cherubino nel giardino dell'eden che poi cinge e dopo la cacciata di adamo però le spalle sono muzzate e questo e poi sono di colore verde molti hanno visto nel verde il riferimento alla speranza mercuri dice questo verde un verde mimetico tra le foglie tipo proprio due marine si preparano a proteggere una postazione mario avversano dice che il verde è un colore io la butto lì è un colore che a che fare anche col mondo di bellino per esempio il drappo verde a verona e teniamolo presente anche questo perché qua poi avremo a che fare anche un pochino con guelfi e di bellini comunque c'è questa dicevo questa biriditas questa verdezza ben di cernea in lor la testa bionda ma nella faccia l'occhio si smarria come virtù che troppo si confonda ambon benion del grembo di maria disse sordello a guardia della valle per lo serpente che verrà via via un dio che non sapeva per qual cal mi volsi intorno e stretto ma costai tutto gelato alle fidate spalle sordello dice questi vengono del grembo di maria poi capiamo cosa vuol dire questo grembo di maria a guardia della valle per proteggere la valle dal serpente che adesso arriverà e dante che non sa da dove può arrivare questa questo serpente si guarda attorno e tutto gelato impaurito si accosta al suo signore caspita cioè sta per arrivare il serpente e ragazzi il serpente è il serpente non ce ne sono allora prima di entrare a parlare del grembo di maria a me interessa farvi notare la rima valle calle spalle la rima valle calle spalle è una rima che compare proprio all'inizio inferno 1 nella nella selva oscura selva oscura che in qualche maniera è una come si può dire un luogo di perdizione un luogo di smarrimento quindi in qualche maniera noi siamo di nuovo all'interno di una dimensione di smarrimento questa valletta dei principi sta per diventare la selva oscura addirittura con questa presenza diabolica ma che cosa ci fa il diavolo in purgatorio cioè il purgatorio non è il luogo della salvezza cioè non è il luogo dove le anime arrivano già salvate perché insomma le anime del purgatorio non sbagliano più non tornano più indietro eppure noi capiamo che questa scena alcuni hanno chiamato questo mistero questo dramma sacro ogni sera compare di fronte alle anime dei principi negligenti il grembo di maria allora il grembo di maria è in qualche maniera ci sono due ipotesi una che mi convince di più una che mi convince di meno allora il grembo di maria per molti commentatori è per mitonimi a cristo questi vengono dal cristo e ci starebbe bene l'idea di cristo perché perché a con l'idea della salvezza però appunto altri studiosi dicono il grembo di maria è l'empireo perché noi lo vedremo in paradiso 33 e dal caldo del grembo di maria è germinato questo fiore cioè la candida rosa è germinata dal caldo dal ventre di maria prima di maria non c'era la candida rosa è l'arrivo di maria che genera qualcosa di nuovo tra l'altro grembo di maria in qualche maniera richiamerà il grembo di dido in paradiso 8 nel cielo di venere quindi abbiamo un grembo di dido e un grembo di maria e anche questo è interessante proviamo andare avanti perché insomma qua ci crea una piccola tensione allora proviamo a vedere anche i ritmi che gioca dante primo movimento l'adagio era l'ora che volge il visivo dato era già c'è questo già che è molto interessante era già l'ora che volge il visivo già rispetto cosa poi c'è il momento in cui dante ci richiama ci sveglia come lettori ci costringe una responsabilità di lettori e di attenti e appaiono questi due angeli in attesa di qualcosa sordello dice che l'attesa stiamo attendendo un serpente dante se la fa sotto ma c'è un terzo movimento anche che va completamente diverso rispetto al movimento precedente e sordello anco or abbagliamo o mai tra le grandi ombre e parleremo ad esse quindi in qualche scendiamo nella valle senti vale andiamo a faccio una chiacchierata e quindi assolutamente dante contro ogni creazione della suspense ma dante appunto da uomo medievale a dante interessa ben altro interrompe questa scena che poteva essere anche potenzialmente drammatica per dire una cosa che ci stupisce andiamo a parlare con qualcuno grazioso fia loro vederli assai da che c'è qualcuno che ha voglia di vedere parte sta per arrivare serpente ci sono gli angeli ma da che ci siamo finché aspettiamo facciamoci due chiacchiere solo tre passi credo chi scendesse e fui di sotto e vedi un che migrava pur me come conoscere mi volesse c'è uno che lo guarda e lo riconosce tempera già tratto tempera e proprio anche in inferno uno tempera dal principio del mattino quindi in qualche maniera dante continua a rimandare dei richiami che ci collegano o con inferno nove o con inferno uno poi li vedremo meglio richiami con inferno nove tempera già nuovo questo già che l'aere samnerava ma non sì che tra gli occhi suoi e miei non dichiarisse ciò che pria servava verne si fece e io per lui mi fei questo in questo indica sillabo indica assolutamente una simmetria verne ver lui giudice nin gentil quanto mi piacque quando ti vidi non esser tra re o nino giudice gentile nino visconti che bello che non eri tra i dannati questo nino gentile questo giudice è nipote di un altro nino detto detto meno ma in realtà chiamato ugolino che è proprio l'ugolino di inferno 33 questo è il nipote del conto ugolino tra l'altro vittima delle dell'azione rapace e lupesca di del conto ugolino quindi questo fa ecco arriva un altro elemento è uno che è parente del conto ugolino giudice e in quanto giudice di gallura per cui possedimenti erano lì ma appunto poi viene cacciato via e da qui insomma succedono tutta una serie di di la cosa odio scusate scusate dei dei ghibellini non dei guelfi allora andiamo avanti nullo bel salutar tra noi si tacque quindi questi si salutano con grande affetto poi dimandò quant'è che tu venisti a piede del monte per le lontane acque già ma da quando è che sei morto o dissio lui per entro i luoghi tristi venni stamane e sono in prima vita ancorché l'altra si andando acquisti ma scusami tu quando è che sei morto no veramente io sono ancora vivo sono nella mia prima vita perché poi l'importante è anche la seconda vita sempre per farvi vedere i richiami delle rime abbiamo un piacque e acque che ci richiama esattamente al canto ventiseesimo si richiama al canto ventiseesimo dell'inferno ulisse e al canto primo del purgatorio quindi di nuovo abbiamo questo canto che come un ragnetto tesse tesse tutte quante le 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 tele collega a canti a canti diversi e come fu la mia risposta udita sordello ed egli indietro si raccolse come gente di subito smarrita quando sentono che dante vivo tutti restano assolutamente scioccati si fermano e lo guardano l'uno a virgilio e l'altro a un si volse che si dà lì gridando su currado vieni a vedere che dio per grazia volse allora qua chiamano corrado questo è corrado ma la spina vieni a vedere qua che cosa che cosa straordinaria dio volle per grazia poi volto a me per quel singolar grado che tu dei a colui che si nasconde lo suo primo perché che non gli è guado quando sarai di là dalle larghe onde di a giovanna mia che per me chiami la dove l'innocente si risponde non credo che la sua madre più mami poscia che trasmutò le bianche bende le quai convien che misera ancora brani per lei assai di lieve si comprende quanto in femmina fuoco d'amor dura se l'occhio o il tatto spesso non l'accende non le farà si bella sepultura la vipera che melanesi accampa come avrea fatto il gallo di gallura e qua entriamo in una serie di terzine che sono quelle carcine che offrono al fianco ai sostenitori del dante misogino ma andiamo con ordine allora lui quando vede quando sempre prima chiama corrado e dopo dice guarda quando tu avrai attraverso il dono di colui di cui non capiamo quello che pensa il privilegio di ritornare indietro dalle larghe onde quando tornerà in vita fammi un piacere vai da giovanna mia e dille che preghi per me allora questa giovanna mia che poi è la figlia di nino nino visconti giudicessa contessa di gallura si contrappone come colei l'unica parente rimasta a nino che possa ancora intercedere e qua c'è questo questa dinamica che è una dinamica molto presente soprattutto nei primi canti del purgatorio cioè i vivi hanno assolutamente possibilità di interagire con il mondo dei morti anzi addirittura hanno la possibilità di cambiare le sorti del mondo dei morti cosa per esempio che nel mondo pagano non era pensabile pensabile allora c'è questa questa realtà per cui noi vivi attraverso le nostre preghiere possiamo migliorare la situazione delle anime del purgatorio questa cosa che poi è una cosa che domina soprattutto il canto quinto e mi sembra il canto sesto del purgatorio cioè proprio con le anime che vanno davanti e gli dicono quando torni vai da questo vai da quell'altro vai da quest'altro e tutti gli chiedono delle cose e qua abbiamo lo stesso meccanismo con nino che dice vai da mia figlia perché io ho il sospetto che mia moglie beatrice d'este non sia più innamorata di me che ha lasciato le bianche bende cioè ha lasciato il lutto le bianche vende sono le vestito gli indumenti del del lutto quindi vai da mia figlia a chiederle che interceda per me perché la mia moglie non mi aspetto molto di più è infatti poi questa beatrice d'este è la è una che andrà a sposarsi dopo appunto qualche anno di vedovanza con un visconti ed è quello che poi dice dante dopo cioè dicendo non le farà una bella sepoltura la vipera che campeggia nello stemma dei visconti rispetto a quello che avrebbe potuto essere per lei il gallo di gallura di nuovo ritorno una vipera allora c'è il serpente che sta per arrivare che incombe in questa clima d'attesa e c'è una vipera e in entrambi i casi sono immagini negative e poi c'è questo gallo il gallo di gallura però ecco il punto dove come vi dicevo i commentato alcuni commentatori vedono in questa in questa in questa terzina un attacco misogino da parte di dante sono due passi uno è paradiso 15 e l'altro qua per lei assai di lieve si comprende quanto in femmina fuoco d'amor dura se l'occhio il tatto spesso non l'accende dal suo agire si può facilmente comprendere quanto poco duri nelle donne la fiamma dell'amore se non è mantenuta accesa dalla vista o dal tatto la donna è mobile qual piuma al vento canterebbe il duca di mantova le donne sono tutte quante volubili tra l'altro questa questo concetto della donna volubile vi becco la citazione è un concetto anche che deriva dalle neide neide canto quarto varium et mutabile sempre femmina così mobile è la donna sermonti traduce è sempre un colpo di scena un imprevisto la donna vabbè sermonti era delle donne non ci dobbiamo fidare allora che cosa sta succedendo dante eccolo qua qua abbiamo il dante misogino no ovviamente no perché ma già semplicemente perché in questo canto c'è anche giovanna c'è giovanna mia se non ci fosse giovanna né se lui avesse detto vai a chiedere al mio cugino vai a chiedere al mio nipote vai a chiedere a qualcun altro al mio vicino di casa allora avrei potuto dire beh c'è un principio maschile forte contro un principio femminile negativo ma non c'è perché c'è il principio femminile positivo che è la la figlia giovanna e questo giovanna mia sto pensando all'anella mia in purgatorio 23 nella è questa che riesce intercedere così tanto per cui forese diciamo così brucia le tappe si ritrova già nella cornice nella cornice dei golosi sono in qualche maniera è sciocco secondo me insistere al nino è arrabbiato con la moglie e dice questa cosa qua ma questo non è un dante che ha un'idea negativa del femminile è il nino che arrabbiato con le donne o meglio potremmo dire che dante in qualche maniera attacca un cattivo femminile vittima di un cattivo maschile c'è questa donna che non vede l'ora di risposarsi si assolutamente è un'immagine negativa ma noi in queste noi abbiamo delle noi abbiamo degli esempi di donne sono delle donne in vita di cui parlano le anime per esempio la moglie di jacopo rusticucci la moglie di jacopo rusticucci è sicuramente un modello negativo la figlia di manfredi invece è un modello positivo gualdrada la figlia di novi sconti insomma diciamo così non è che ci siano solo donne negative che aspettano di là esiste però dante lo riconosce esiste anche un cattivo femminile ma dire che esiste un cattivo femminile non vuol dire essere misogini l'intelligenza di dante l'acutezza di dante la l'onestà intellettuale di dante capace di riconoscere nella stessa famiglia una figlia devota e una moglie sciagurata andiamo avanti così dicea segnato della stampa nel suo aspetto di quel dritto zelo che misuratamente in core appampa gli occhi miei ghiotti andavano pur al cielo pur là dove le stelle sono più tardi si come rota più presso allo stelo e dante questo inizia un quarto movimento guarda il cielo il duca mio filluol che è la su guarda e io a lui a quelle tre facelle di che il polo di qua tutto quanto arde cioè sto guardando tre stelle che non avevo mai visto un degli amè le quattro chiare stelle che vedevi stamano sono di la basse e queste sono salite ovvero in quelle quindi abbiamo quattro stelle che erano apparse in purgatorio 1 e tre stelle che appaiono adesso in purgatorio 8 giustamente i critici dicono che quattro stelle sono le virtù cardinali le tre stelle sono le virtù teologali ma tutti quanti voi e tutte quante voi che avete guardato la diretta bellissima con susanna amati sulle niente sapete bene che poi queste sette virtù chiamiamole così questo mix di virtù diventano concretamente sette minfe dicendo noi siamo niente e nel cielo siamo stelle quindi è sono stelle sono virtù o sono niente a proposito di dante misogino come parlava e sordello a se trasse dicendo vedi la il nostro avversario di nuovo colpo di scena appare il nostro avversario lo diavolo e grezzò il dito perché la guardasse da quella parte onde non ha riparo la piccola valle a era una biscia forse qual diede ad eva il cibo amaro appare una biscia guardate che questa cosa è proprio il riflettore dante che punta riflettore teatrale sopra la biscia che appare nell'oscurità e forse poteva essere quella biscia che diede il frutto amaro aveva il diavolo è arrivato nel purgatorio e dice biscia in effetti biscia al femminile non dice serpente un serpente questo diventa una biscia per cui sì forse a livello archetipico c'è ancora questa altezza di purgatorio un piccolo contrasto tra un elemento maschile i due angeli e il l'elemento femminile tentatore siamo un po nel regno di circia è per carità tra l'erba e fior venia la mala striscia volgendo ad ora ad ora la testa e il dosso leccando come bestia che si liscia questo serpente si lecca la schiena trattano i bestiari questo atto di leccarsi la schiena è un atto proprio di per uccidere è un qualcosa di tremendo però se vi accorgete c'è anche una grande dimensione di sensualità insomma questo serpente che si lecca la schiena o in qualche maniera non sembra nemmeno un rettile sembra la lonza qua stiamo tornando nel regno delle bestie tremende però è una biscia attenzione adesso poi riprendo tutti questi fili che che dante sparpaglia io non vivi e però dicer non posso come mosser gli astor celestiali i due angeli che lui chiama astor celestiali i due sparvieri celestiali si mossero così veleciamente a chi non mi resi conto di quello che stavano facendo ma vidi bene e l'uno e l'altro mosso sentendo fendere l'aere alle verdi ali fuggì il serpente e gli angeli di er volta su uso alle poste rivolando uguali allora i due angeli si 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 muovono il serpente viene cacciato e loro se ne vanno via ogni sera le anime appunto dei principi della valletta vedono questa cosa qua allora proviamo un po non è ancora finito il canto è proviamo un po mettere ordine e proviamo un po vedere che cosa diceva dante in inferno 9 allora le domande che i critici si pongono giustamente sono a perché due angeli c'è questo numero 2 b perché la spada è una spada si di fuoco ma senza punta c che senso ha questa scena cioè che cosa significa questa scena nella dimensione pedagogica del purgatorio però prima di provare a rispondere a queste domande proviamo a vedere adesso io perderò facciamo così non parlo il segno proviamo a vedere che cosa diceva dante nel canto nono allora canto nono dante virgilio arrivano ai pressi della città di vite alle mura della città di vite ci sono dei diavoli che chiudono il portone in faccia a virgilio non lo vogliono più passare questo succede nel canto ottavo nel canto nono sono ancora lì che aspettano e non sanno bene che cosa sta per succedere tre furie infernal di sangue tinte che membra femminine avieno e atto i conidre verdissime era incinte serpentelli e ceraste avien per crine onde le fiere tempi erano avvinte a un certo punto appaiono le tre furie ma le tre furie intanto appunto sono tre femmine quindi quasi potrebbe essere ancora in questa dimensione di maschile e femminile anche se vi dico teniamolo conto che è un processo non è un giudizio un punto di arrivo però ci sono i serpenti e c'è il verde le tre furie sono verdi gli angeli sono verdi e qui che ben conobbe le meschine della regina dell'eterno pianto guarda mi disse le feroci erine poi chiamano addirittura l'avvento di medusa e medusa un'altra che è caratterizzata dalla testa di di serpente e poi arriva appunto virgilio si spaventa chiude gli occhi a dante o voi che avete gli intelletti sani mirate la dottrina che sasconde sotto non ricordo cosa avevo detto prima sotto il velame degli versi strani e già venia su per le torbide onde un fracasso d'un suon pien di spavento per cui tremavano a men due le sponde non altrimenti fatto che d'un vento impetuoso per gli avversi ardori che fier la selva e senza alcun rattento li rami schianta abbatte e porta fuori dinanzi polveroso va superbo e fa fuggire le fiere i pastori insomma iniziano in grandi effetti speciali l'artiglieria pesante arriva vento impressionanti virgilio ordrizza il nervo del viso su per quella schiuma antica come le rane innanzi alla nemica biscia per l'acqua si dileguano tutte finché alla terra ciascuna sabbica di dio più di mille anime distrutte fuggire così dinanzi a un calpasso passava stigie con le piante asciutte e poi andiamo avanti e questo è poi è un messo dal cielo quindi comunque c'è il uno dal c'è il messo abbiamo dei degli astor celestiali e uno dal c'è il messo quindi di nuovo c'è un intervento divino però in questo caso la biscia in inferno 9 è il messo celeste che io non dico essere un angelo perché secondo me non è un angelo non voglio aprire la questione se qualcosa sia il messo celeste però secondo me non è un angelo qua abbiamo degli angeli però non importa cioè comunque è un intervento soprannaturale la biscia in inferno 9 è un elemento positivo ed è il messo celeste la biscia in purgatorio 8 è il lo diavolo tentatore però avete visto il verde i serpenti la biscia è una contrapposizione tra un principio maschile e un principio femminile l'appello al lettore in qualche maniera purgatorio otto e inferno 9 sembrano avere dei legami tra di loro cioè sembrano consapevolmente essere richiamati perché due non potrebbe essere come anche in certi passi evangelici un solo angelo con la spada perché per forza due e qua secondo me come ho letto insomma nei commenti che anche a me hanno convinto parecchio è proprio l'idea politica di dante cioè noi vediamo perché ecco proviamo a stare anche sull'appello al lettore a guzzo bel lettore che qua ti sembra tutto chiaro ma potrebbe non esserlo da era tutto scuro e qua invece tutto chiaro ma in fondo qual è il problema che abbiamo il serpente tentatore e gli angeli cioè sì stiamo vedendo un dramma mistico stiamo vedendo probabilmente un ricordare a queste anime un qualcosa di di spirituale la balletta dei principi potrebbe in qualche maniera anche ricordare l'eden il giardino dell'eden quindi per ricordare la vittoria del bene sul male ogni sera ad uso di queste anime che sostano qua viene ricordato quanto alla fine il bene vince tra l'altro è così frequente questa cosa che vi accorgete che sordello il giudice nino proprio non gliene può importare di meno di questa scena cioè dante molto scosso dalla scena le persone quasi non vengono toccate sembrerebbe non essere toccate da questa scena e se invece fosse dell'altro cioè e se invece questa non fosse una scena mistica e se invece questa non fosse una scena allegorica o meglio sì e se invece fosse una scena allegorica che rimanda ad altro ma che cosa rimanda perché questa cosa viene fatta soltanto per i principi negligenti e non per le altre anime del purgatorio per le altre anime dell'anti purgatorio perché i morti di morte violenta non vedono questa cosa perché non lo vedono gli scomunicati come manfredi perché soltanto loro ecco perché il 2 allora due perché perché ci sia un equilibrio politico e questi principi sono rappresentanti politici che non ce l'hanno fatta al cento per cento cioè non sono persone negative sono persone che non si sono impegnate abbastanza in qualche maniera non viene ricordato a loro che bene trionfa sempre sul male a loro viene ricordato che 2 è meglio che uno come cos'è maxibon ci guste il best one cioè l'impero e la chiesa devono essere in armonia se non c'è armonia tra impero e chiesa da potere temporale e potere spirituale a livello umano non ci sarà mai la pace allora queste anime sono anime che non hanno saputo mantenere l'equilibrio tra un potere temporale e un potere spirituale non hanno fatto disastri perché sono nell'anti purgatorio ma non sono anime non so come giustiniano cioè quegli imperatori di luce che poi noi li vedremo o carlo martello che noi poi vedremo in paradiso allora è questo l'importante cioè è importante questa dualità e questo equilibrio tra i due poteri allora noi non stiamo vedendo in qualcosa di simbolico noi stiamo vedendo un qualcosa di storico pensate che la maggior parte delle volte in cui dante mette in scena delle cose storiche noi proviamo a leggerlo in chiave simbolica e per una volta che mette una cosa un fortissimo simbolo quasi quasi è vero il contrario che abbiamo un qualcosa di storico cioè in questo momento in questo canto senza che noi ce ne accorgiamo dante sta facendo politica alcuni di questi concetti sono concetti che poi torneranno nel monarchia noi non sappiamo la stesura del monarchia e la stesura di questo canto che rapporto abbiano tra loro quindi può essere che siano delle cose che frullavano in testa in dante a questa altezza di canto e che poi tante rielabora nel monarchia però la cosa che noi che dante ci sta dicendo è non prendete troppo simbolicamente quasi quasi troppo misticamente questa scena questa questo è un canto politico il legame che ci sono con inferno 9 sono dei legami forti di alcuni archetipi sicuramente c'è un archetipo femminile c'è un archetipo del serpente c'è il richiamo a medusa c'è il mondo della dea in inferno 9 c'è il mondo della dea anche in purgatorio 8 è un po sì e un po no forse un po meno le spade sono spalle senza punte perché sono spade rituali cioè quello che stiamo vedendo non è qualcosa di vero ma allora il male questa biscia arriva cioè lucifero che che cos'è qua perché allora sì dobbiamo capire che c'è anche una lettura mistica di questo perché il diavolo si presta a che cosa il diavolo si presta a essere al servizio di dio a me fa venire in mente giobbe il libro di giobbe con il satana che appare come consigliere insieme ai figli di dio assolutamente figlio di dio e pone una questione che fa ragionare dio che fa sì che dopo succederà tutto quello che succede per giobbe per cui in qualche maniera giobbe si migliora di dio stesso signora allora qua noi davvero riprendiamo il ruolo di lucifero e viviamo la sua dimensione di essere un l'avversario il satana l'avvocato del diavolo al servizio di dio quindi noi stiamo vedendo un rituale in cui gli angeli non fanno male a nessuno perché stanno facendo una scena appunto un dramma sacro ma se allora la biscia non fa male a nessuno perché entra all'interno di questo percorso iniziatico che vuole semplicemente ristimolare nelle anime dei principi negligenti che la vera risposta era nell'equilibrio di un potere spirituale e di un potere temporale se quindi tutti questi stanno facendo questa sceneggiata chiamiamola così a scopo pedagogico non può essere che forse anche le furie in inferno 9 e medusa in inferno 9 e il messo celeste in inferno 9 avevano uno scopo pedagogico cioè in qualche maniera tutto quello che dante sta vedendo è un enorme copione creato da dio voluto da maria per permettere a dante di migliorare per permettere a dante di acquisire di fare esperienza piena io spero di non avervi così tanto incasinato però a me questa questa tesi in qualche maniera convince proviamo andare un attimo che adesso mi sono perso con le con le pagine ecco allora finisce la scena con i finisce la scena con i con i diavoli e con gli angeli e la biscia e di nuovo ritorniamo a il dialogo che stavano facendo quindi tema l'ora che volge il visio angeli che arrivano si posizionano dialogo con nino gentile scena degli angeli e della biscia e l'altro il corrado che era stato chiamato prima dicendo riguarda qualche ce n'è uno vivo l'ombra che se era il giudice raccolta quando chiamò per tutto quello assalto punto non fu da me guardare sciolta quindi questo sta guardando dante perché effettivamente dante è molto più interessante in questo momento se la lucerna che ti mena in alto trovi nel tuo arbitrio tanta cera quant'è mestiere infino al sommo smalto cominciò ella se novella vera di val di magra o di parte vicina sai dillo a me che già grande la era fui chiamato currado ma la spina non solo l'antico ma di lui discesi a miei portai l'amor che qui raffina il verbo raffina tra l'altro è un verbo che compare in purgatorio 26 nelle fiamme il fuoco che 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 purifica allora possa la luce divina che ti conduce così in alto trovare nel tuo libero arbitrio tanto a cera tanto alimento quanto è necessario per giungere alla sommità smaltata di questo monte possa tu arrivare fin su con il tuo libero arbitrio l'unico modo per scalare il purgatorio è volerlo per essere felici dobbiamo sceglierlo questo è il grande grande la semplicissima logica dantesca tu scegli di andare in por avviso o scegli di andare all'inferno è una scelta non c'è nulla dio ti accontenta sempre il sommo smalto ecco è un'espressione interessante perché smalto questo sommo smalto ci richiama al canto del limbo con inferno inferno 4 tra l'altro il limbo è un'altra zona verde per cui abbiamo che qua dei richiami ma questo canto come vedete è un canto che continua a richiamarne e altri allora lui si presenta appunto come della stirpe dei malaspina non è proprio non è proprio che si chiama corrado ma la spina non è corrado l'antico è un suo discendente ma appunto ebbi per i miei un amore eccessivo che qui si purifica quindi in qualche maniera anche questo è un problema di disequilibrio o dissi o lui per i vostri paesi già mai non fui ma dove si dimora per tutta europa che non sia in palesi guarda io non sono mai venuto dalle tue parti e qua entriamo nell'ironia dantesca io non sono mai venuto dalle tue parti però insomma non c'è posto d'europa che non sappia quanto si sta bene da voi si stia bene da voi la fama che la casa che la vostra casa onora grida i signori e grida la contrada sicché ne sa chi non vi fu ancora e io vi giuro si io di sopra vada che vostra gente onrata non si sfregia del pregio della borsa e della spada uso e natura si la privilegia che perché il caporeo il mondo torca sola va dritta e il mal cammin dispregia ed elli orva che il sol non si ricorca sette volte nel letto che il montone con tutti e quattro i piedi cuopre e inforca che cotesta cortese opinione ti fia chiavata in mezzo della testa con maggior chiovi che d'altrui sermone se corso di giudicio non s'arresta la fama che rende onore al vostro casato celebra ovunque il nome dei signori e quello del loro territorio così che anche chi non c'è mai stato ne ha notizia io vi giuro così io posso giungere alla cima della montagna che la vostra onorata stirpe tra l'altro onrata la gente onrata la parola onrata è una parola che nel canto quarto dell'inferno ritorna tantissimo quindi l'idea dell'onore non ha smesso di fregiarsi del vanto della liberalità e del valore in guerra la sua indole naturale la sua consitudine alle virtù cavalleresche la privilegia nato il punto che per quanto il capo malvagio roma vedete che poi ritorno dell'aspetto politico faccia deviare il mondo dalla retta via e quindi di nuovo ritorniamo al canto primo ma questo qualità in questo canto ottavo è un rileggere il canto primo in chiave politica la selva oscura è un contenitore a un serbatoio di simboli di immagini potentissimo per cui c'è l'aspetto del dante che smarrisce la retta via probabilmente anche per aver seguito dei pensieri filosofici che lo hanno distolto da una dimensione spirituale può esserci anche l'aspetto di un antefatto erotico della commedia come dice raffaello pinto e quindi l'idea anche di una presenza femminile che possa aver di fatto turbato dante ci può essere un aspetto di di la selva oscura come suicidio però ci può essere anche che la selva oscura è la crisi di dante nell'esilio e qua in qualche maniera stiamo tornando a questa cosa qua tante sta facendo questo elogio della della casata della famiglia di malaspina dicendo non ci sono mai stato siete siete bravissimi si sta così bene da voi io non vi ho mai visti ma insomma figuratevi se nessuno conosce i vostri meriti e c'è una roma che fa deviare la diretta via e dante inizia l'esilio per colpa di roma perché bonifacio ottavo lo trattiene quindi di nuovo c'è una dimensione politica anche nella selva oscura essa sola va dritta e disprezza il cattivo cammino e lui le dice e lui gli dice ora va che il sole non tornerà sette volte in quella zona del cielo che la riete il montone occupa con tutti e quattro i piedi cioè non passeranno sette anni che questa cortese opinione ecco è un'espressione molto forte ti sarà inchiodata in testa con argomenti ben più forti ma dante non dice con argomenti ben più forti dice con maggior chiodi con chiodi maggiori che le parole di chiunque altra persona se il corso degli eventi stabilito dal giudizio divino non si arresterà e questo è un decassillabo stranissimo a me lascia molto inquietudine è un canto che finisce un po in maniera intesa cioè gli dice stai attento che tra sette anni capirei bene com'è l'ospitalità di malaspina che cosa li sta predicendo corrado malaspina gli sta predicendo l'esilio perché perché sappiamo bene che nante avrà una bellissima ospitalità molto presente la presenza di dante verso la corte di malaspina è una presenza molto importante e che segna davvero la storia tra l'altro noi abbiamo quella bellissima è il pistola di dante a morello malaspina accompagnata poi da una poesia che anche quella sarebbe interessante prendere in mano perché c'è un dante che che parla di questa montanina di questa donna che l'avevi vede e che lo colpisce come una folgore loro una sorta di anti beatrice quindi nuovo ritorna un modello femminile inquietante perturbante ed è proprio questa poesia dedicata a malaspina a cui dopo lui accompagna una lettera che che in parte commenta questa poesia e ne dà anche lettura ma una poesia molto strana perché è una poesia dove sembrerebbe che dante abbia abbandonato i temi dell'amore e in pieno esilio invece lui dice che ritorna innamorato per questa donna e sembrerebbe un tornare indietro tanto che i commentatori pensano che forse non stia parlando di quella roba lì e torniamo sempre la stessa cosa quando dante parla di qualcosa probabilmente sta intendendo un'altra ne sta intendendo un'altra però appunto questo li fa questa profezia dicendoli che guarda che tu capirai com'è la mia ospitali com'è l'ospitalità di malaspina molto di più perché ti sarà chi chi ha chiavata in mezzo alla fronte con dei chiodi quella che è la nostra ospitalità quindi c'è questa scena davvero violenta che in qualche maniera colpisce e l'altra cosa interessante è che nino e corrado malaspina rappresentano comunque un equilibrio di questa dualità cioè tornando sempre i due angeli abbiamo due angeli abbiamo questi due tra l'altro appunto abbiamo mondo guelf mondo ghibellino assolutamente integrato insieme perché abbiamo due rappresentanti di fazioni diverse che però sono nella stessa nella stessa nella stessa balletta un po come era per farinata e per cavalcante ma in questo caso ecco vedete la relazione tra i due nino appena vede dante subito chiama corrado c'è vedete che c'è un'apertura a queste interazioni nella balletta dei principi comunque anche se questi hanno ancora bisogno un po di riflettere sui loro fallimenti di uomini politici assolutamente c'è questa dinamica questa dimensione relazionale che è la carta vincente cioè intanto prima di tutto senza relazione non ci si può stare l'avevamo visto l'avevamo visto in negativo nel canto decimo dell'inferno ma quello vediamo in chiave positiva cioè vediamo che possono i nemici dialogare tra loro guelfi e ghibellini possono andare d'accordo perché perché sono sempre nella stessa situazione e soprattutto papato impero devono essere equilibrati tra di loro perché dico che questo è un canto che si termina con una punta che un po insomma mi sembra strana cioè è strana questa perché ma la spina gli dice tutte queste cose le capirai se il corso del giudizio non si arresta cioè se se il corso degli eventi stabiliti al giudizio divino non si arresterà ma questa è un'ipotesi assurda cioè come può la provvidenza divina andare contro se stessa questa è una cosa strana e vi dico sinceramente non è che abbia una risposta oggi da darvi è una cosa strana ecco io non credo che sia una cosa che pensa ad anche perché questa è una profezia vabbè insomma lui è già stato ospite dei malaspina quindi lui sa già di esserci stato perché deve mettere in dubbio in qualche maniera è ancora diciamo così forse abbozzo questa risposta è ancora la psicologia fragile di queste anime del purgatorio cioè non è un pensiero di dante perché la testa benissimo che sarà ospite di malaspina anzi per alcuni questa sviolinata è stata forse anche un po troppo anche se io penso che dante sia assolutamente onesto e sincero come l'elogio che fa la vita grande però perché deve deve dubitare e forse è un po il problema di questi uomini politici questi uomini politici che magari non si sono assolutamente affidati alla provvidenza divina probabilmente corrado malaspina sta qua ancora nella valletta cioè quindi nel purgatorio e non è direttamente in paradiso perché perché forse non è stato così convinto della provvidenza divina del piano divino e questo è il simbolo il sintomo anzi scusate della sua debolezza quindi come vedete un canto davvero particolare a ecco scusate però come sempre il colpo di genio dantesco perché la nostalgia della patria lontana con cui si apre il canto gli angeli che arrivano e aspettano nino gentile quindi tutto la prima parte con il discorso sulle donne e sull'interazione tra le preghiere dei vivi rispetto al mondo dei morti e l'influsso scena della biscia che qua possiamo leggere in chiave storica e non in chiave simbolica corrado malaspina che predice l'esilio di dante e l'esilio di dante si va a collegare assolutamente in maniera circolare con il canto di inizio quindi il canto dell'addio del pellegrino del navigante diventa la profezia dell'esilio quindi quella nostalgia non è tanto la nostalgia di dante lontano dalla terra perché vive perché adesso si trova scusate nel purgatorio ma è la nostalgia di dante lontano da firenze e quindi anche qua ancora una volta l'aspetto simbolico diventa un aspetto storico e addirittura qua autobiografico se abbiamo fatto io spero che di essere riuscito a tratteggiare i canti gli aspetti principali di questo canto mi sembrate contenti non ho visto molti interventi questa sera però mi sembrate mi sembrate sì sì dai mi sembrate sul sul pezzo adesso mi era sfuggita questa non esiste il sacro senza rito beh no certo non esiste il sacro senza rito e bisognerebbe chiedersi se noi allora siamo ancora capaci di sacro visto che non siamo più capaci di riti i nostri riti sono riti commerciali c'è il nostro rito è san remo adesso ecco non devo fare proprio il guastafesta spero che vi sia piaciuta questa serata e noi ci rivediamo martedì prossimo martedì 15 dove vi presenterò il canto undicesimo dell'inferno chi me lo fa fare ma se ne lo faccio perché abbiamo bisogno di fare i canti dottrinali quelli che che non piacciono a nessuno quindi faremo il canto undicesimo dell'inferno e poi e poi ma c'è anche gente da buenos aires e poi invece lunedì 21 non perdete la diretta 2 con edi minguzzi e presentiamo il dizionari e to dizionari eto dantesco le parole ermetiche nella commedia se non avete domande o interventi mi sembra ciao maurizio mi sembrate comunque tutti contenti io vi ringrazio io sono molto contento e ci vediamo la settimana prossima una buona serata tutta è una buona serata a tutti così dai lasciamoci con questa nostalgia malinconia purgatoriale ciao